Comincia da un basso morbido, confortevole. Fai tutto ciò che ti viene in mente. Continua a esplorare tutte le possibilità. Lasciati trasportare e cerca nell'infinito mondo dei suoni. Arriverà tra poco, ne sono certa. E con calma, non avere paura di sbagliare. Non ho paura. Sì, puoi aggiungere la cassa. Così è più completo, no? Sì, lo è. E poi ci metterai anche un rullante, qualcosa di questo tipo. Ora che abbiamo un ritmo. Dobbiamo trovare una melodia, giusto? Sì, giusto. Prova un giro di basso. Non saprei cosa metterci. Hai paura di essere intrappolato in un ennesimo loop da pochi secondi? Io cerco questa idea e tu la trovi. Ma non posso semplicemente. Sì che puoi! Puoi solo buttarti al lavoro e tirare fuori qualcosa di interessante? Puoi esprimerti, seguire l'andamento dei suoni e come si incastra? Facciamo qualcosa! Ci vuole poco perché vado a finire come sempre. Andiamo avanti. Ma hai ancora la speranza di uscire e superare l'ostacolo. Chi è l'ostacolo? Chi è l'ostacolo? Grazie a tutti.